Far conoscere agli studenti bostoniani il sommo poeta Ovidio, al fine di sollecitarne la partecipazione al certame Novidiano-Musulmonense del 2017. Animati da questo spirito, dieci studenti del liceo classico Ovidio di Sulmona, guidati dal dirigente scolastico Caterina Fantauzzi e dai docenti Giuliana Giorgio e Fabrizio e Buoncompagno, sono pronti a volare alla volta di Boston per incontrare Filippo Frattaroli che per il 17 marzo 2016 sta organizzando un evento importante nel suo famoso ristorante a Dinner with Publio Ovidio Nasone. Lui ci ha invitato per presentare il nostro certamen, la nostra città e Ovidio, il nostro grande concittadino. Faremo anche questa operazione nuova di studio di queste discipline in lingua inglese. L'obiettivo è proprio quello di presentare a questi nostri concittadini, ma non solo, d'oltreoceano, le nostre attività. La delegazione partirà il prossimo 14 marzo e quando manca meno di un mese al fatidico appuntamento, già fervono i preparativi. I liceali del classico si stanno preparando con impegno ed entusiasmo al viaggio, pronti a presentare in lingua inglese le peculiarità della città di Sulmona, di Ovidio e del certamen. Importante competizione di latino che mette in gara giovani di tutta Europa, ma che già fa registrare la richiesta di partecipazione da parte di alcuni studenti americani. Cerchiamo di portare questi costumi del nostro poeta, del nostro concittadino, che inoltre dà anche il nome alla nostra scuola, di portarlo oltreoceano per cercare di espandere questo invito a partecipare al certamen, non solo ai paesi europei, ma anche a quelli di altri continenti. Per noi liceo classico e anche per la nostra città di Sulmona è un'occasione davvero ghiotta per far vedere cosa è veramente Sulmona, quanto è bella la nostra città e soprattutto quanto è utile, quanto è importante lo studio dei classici. Noi e Ovidio lo cominciamo a studiare fin dal primo anno e permetteremo ai ragazzi americani che leggino il latino e tenteranno di tradurlo. L'evento proposto della dirigente leppolo manistico è stato accolto con entusiasmo da Filippo Frattaroli e dalla comunità abruzzese di Boston, concordato con il console Nicola De Santis e con il dirigente scolastico del consolato italiano, professor Domenico Savio Tecker. L'adesione dei giovani latinisti bostoniani al certame novediano-musulmonense sarà favorita anche dal Rotary Club coinvolto nell'iniziativa.